Partenza da Regoredo, da Regoredo, Milano a Regoredo a Porta Venezia. Vediamo se c'è qualche bel appiancamento, sono su un TSR, ecco c'è un bel divalto, bellissimo, senza i grafiti, nella nuova Lebrea, in Italia, molto bella, poi adesso c'è il sole, alla giusta altezza, circa di 7,5, 19,30. Questo è un altro TSR, per Pavia o Lodi. Adesso che passiamo sotto la linea che va a Mortara, Mortara, Trattano Sardeglio, Costico, Albairate, che stiamo passando sotto, poi dopo la linea riemerge, dietro è un po' sporco purtroppo, ecco, la linea riemerge, ci affianciamo ancora un po' alla linea, diciamo, alle riemerge della cintura di Milano, qui là c'è un broc, nel Bologna, ecco adesso la linea, scende, scende, chiedo qui, è molto stretta, molto stretta, scende verso il passante, scende, scende la prima stazione, sotterranea, ecco qui c'è la valentina di connessione, tra la linea che vede in sopra proveniente da, Treviglio, limite di 65, la linea principale comunque è questa, è la nostra, eh, quella proveniente da Lodi, l'altra invece si mette sulla linea principale, che è quella per Lodi, adesso per il momento è a quattro binari, qui porta vittoria, dopo diventa a due binari, a Milano porta vittoria, la prima stazione è il passante di Milano, qui passano molti treni, ecco questo è Milano porta vittoria, non so se si vede bene, buon, iniziano un po' il video, grazie per la visione, e salve a tutti, ciao, ciao,